Proteggi il tuo udito. Più di 120 milioni di persone al mondo hanno una disabilità uditiva invalidante. World Health Organization. La nostra capacità di ascoltare è un dono di cui fare tesoro. Con l'avanzare dell'età però il nostro udito diminuisce progressivamente. Sembra che la società moderna, con i tanti vari suoni e rumori che genera, abbia accelerato questo processo. Uno scienziato senior presso il Central Institute of Health a St. Louis, Missouri, Stati Uniti, ha osservato. Circa il 75% della perdita dell'udito della persona tipo americana è causato non solo dal processo di invecchiamento, ma anche dal modo in cui le orecchie sono state trattate nell'arco della propria vita. L'esposizione intensa e breve a suoni forti può essere dannosa per le sensibili strutture interne dell'orecchio. La dottoressa Margaret Chiesman, specialista dell'udito tuttavia, ha affermato che, di solito, la perdita dell'udito è il risultato dell'effetto cumulativo di lavori numerosi, hobby numerosi, attività ricreativa e numerosa.